Breitling for Bentley, il cronografo di lusso nato dalla partnership tra due marchi leggendari. La collezione Breitling for Bentley offre prestigiosi orologi di lusso che combinano l'eccellenza dell'orologeria svizzera con l'eleganza tipica del design britannico. Ogni modello, che sia un cronografo con funzione di tempo universale o un orologio con tourbillon, rappresenta un simbolo di prestazioni e prestigio. La collaborazione tra Breitling e Bentley ha avuto inizio negli anni 2000 e ha portato alla creazione di una collezione indipendente di orologi la Breitling for Bentley. All'interno di questa collezione si trovano eleganti orologi di lusso che combinano l'arte orologera svizzera più raffinata con il design britannico. Un dettaglio distintivo di tutti i modelli è la lunetta con motivo in rilievo, ispirata alle griglie dei cofani Bentley. Il modello principale della linea è il Bentley Molliner Tourbillon. Ogni esemplare costituisce un pezzo unico. È possibile personalizzare la cassa con diversi materiali e il quadrante con diverse colorazioni. Inoltre, sia il decoro che il retro della cassa possono essere personalizzati a proprio piacimento. Ogni anno Breitling produce solo pochissimi esemplari di questo straordinario orologio con tourbillon. Altri orologi importanti della collezione Breitling for Bentley includono modelli con calibro di manifattura, funzione di cronografo o funzione di tempo universale. Il Bentley B05 Unitime, ad esempio, è un orologio da polso in grado di mostrare l'ora di 24 fusi orari. Se invece desideri visualizzare solo due fusi orari, ti consigliamo il Bentley B04 GMT, che aggiunge la lancetta delle 24 ore. Ogni orologio di questa collezione trae ispirazione da un modello Bentley e beneficia dell'esperienza tecnica e dell'estetica di design sia di Breitling che di Bentley. La collezione Breitling for Bentley comprende non solo modelli sportivi come il Bentley Motors e il Bentley Barnato, ma anche orologi di classe extra come il Bentley Molliner Tourbillon, il cronografo rettangolare Flying B o il Mark VI Complications 29 in edizione limitata. La partnership tra Breitling e Bentley ha dimostrato di essere un successo duraturo e entrambi i marchi condividono gli stessi valori di prestazione, prestigio e precisione. La collezione di orologi di lusso Breitling for Bentley rappresenta l'unione perfetta tra l'arte dell'orologeria svizzera, l'eleganza automobilistica e il design britannico.